Visita del principe Alberto di Monaco alla Cittadella della Pace. Ha così proseguito il weekend a retino per il principe Monegasco, pellegrino per l'occasione sulle tracce della madre Grischelli. Dopo la visita al Santuario della Verna in occasione dell'ottocentesimo anniversario delle stimate di San Francesco, il sovrano alla Cittadella ha voluto conoscere gli studenti protagonisti del cosiddetto metodo rondine per la risoluzione dei conflitti. Sono luoghi importantissimi, sono molto felice di avere questo invito, questa opportunità di scoprire la ringrazio del Presidente Bacari e tutte le persone che hanno organizzato questo weekend. era veramente affascinante e emozionante a La Verna e qui alla rondine è di vedere questo campus, questo villaggio, questo paese, di vedere la metoda di rondine per accogliere e creare questo dialogo tra i studenti e per una visione di pace, per una cultura di pace veramente fantastica. Da 2015 il Principato di Monaco sostiene e sponsorizza le iniziative di rondine anche supportando tre ragazzi e già da tempo aderito all'appello Leader for Peace. Quindi con il Principe noi speriamo di avere un passo in più, un alleato in più, lui è molto impegnato nei temi dell'ambiente e anche della pace e penso che scoprendo dal vivo, toccando con vivo rondine i giovani che si formano qui quotidianamente, la concretezza di rondine possiamo aprire nuovi progetti per poter cercare di incidere di più e far venire questa pace che tutti attendiamo.